Pagano, in un momento come questo quanto è difficile fare un tesseramento per Forza Italia? Sì, è difficile ma almeno è più serio, perché una volta quando si faceva il tesseramento arrivavano i cosiddetti signori delle tessere, addirittura capitava che c'era gente che neanche sapeva di essere tesserato, addirittura tesseravano i morti. Adesso chi si aderisce al nostro movimento politico è veramente convinto di farlo e crede nel futuro di questo Paese. Come dice Berlusconi, noi siamo fermamente convinti di essere maggioranza nel Paese, solo che una parte purtroppo consistente del nostro elettorato in questo momento è sfiduciata ed è rimasta a casa. Ecco il motivo di questa manifestazione di oggi, tornare tra la gente, essere tra di loro, ridurre le distanze fra la politica e i cittadini e far capire che i temi che noi portiamo avanti sono quelli giusti per far riprendere l'economia. Possiamo dire che siete tornati all'anno zero? Forse sì, perché questa è un'abitudine che Forza Italia ha sempre avuto in passato, cioè quello di organizzare il gazebo. I gazebo sono divenuti famosi nella politica nazionale perché li ha inventati Berlusconi, li ha inventati Forza Italia. Oggi ritorniamo con questo metodo, ma soprattutto su temi che interessano la gente. Ecco, Monti più Letta più Renzi, tasse oltre il 200% di aumento nell'ultimo anno. I cittadini non sempre sanno che questo aumento delle tasse è frutto di una scelta nazionale non locale, quindi questo è giusto ricordarlo in un momento come questo. Vogliamo eliminare la tassa sulla prima casa, vogliamo eliminare la tassa sulle successioni, vogliamo venire incontro ai soggetti più deboli, agli anziani, portare la pensione minima a 1.000 euro. Queste sono le proposte di Forza Italia e lo faremo spiegando alla gente per strada, nelle piazze, cosa vogliamo fare. In termini di tessere che risposta vi aspettate? Abbiamo degli obiettivi che ci sono stati consegnati dal coordinamento nazionale di Forza Italia, più o meno il 10% del nostro risultato elettorale all'europea e lo stiamo perseguendo bene, ogni comune ha il proprio obiettivo da raggiungere, i portabandiera che sono stati nominati stanno lavorando con grande attenzione all'acreamente, ci sono anche problemi di natura economica aderire ad un partito a un costo che è 30 euro, quindi non tutti se lo possono permettere, però devo dire che i primi segnali sono molto confortanti.